A me, a me? Sì, 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 no, no. Allora, buongiorno, bentrovati, bentrovate, benvenuti a Firenze per i non fiorentini. È un giorno davvero bello questo, in cui si festeggia una storia importante. È proprio il giorno oggi in cui il gabinetto letterario Viosie venne aperto 200 anni fa. E riflettendo sulla storia di questo luogo e dei molti luoghi che ha occupato in città, soprattutto del luogo come istituzione, mi veniva in mente che contiene, custodisce un'identità della città preziosissima, forse non perduta per sempre, ma senz'altro molto molto nascosta al momento in mezzo ad altre identità più ridondanti, più appariscenti. Ma il numero di persone che ci sono stamattina, le istituzioni qui rappresentate, saluto tutti i rappresentanti qui presenti, gli amici semplicemente, gli appassionati del Viosie, ci mostrano e ci rappresentano chiaramente che questa identità non è perduta per sempre. Allora, noi siamo abituati a pensare al Viosie come una grande istituzione della cultura letteraria del nostro Paese, uno scrigno della nostra identità letteraria. E saluto infatti la rappresentante del Ministero che è con noi, la dottoressa Bolzoni. No, no, io non sono la rappresentante del Ministero. No, ah, no. Ah, dov'è? Eccola, è lei. Ah, scusate. Sono stata una dipendente, l'ho insegnata. E quindi l'ha rappresentato a modo suo anche lei, scusatemi. Perché il Viosie appunto custodisce l'identità letteraria del nostro Paese ed era il luogo del cosmopolitismo del Paese negli anni in cui nacque ed è rimasto un luogo caro a moltissimi intellettuali letterati stranieri che qui hanno non solo soggiornato ma lavorato e studiato. E rappresenta appunto, all'epoca era un luogo della cultura feriale, della cultura a disposizione di chi la maneggiava ogni giorno, di chi anche solo per passione trascorreva in mezzo ai libri il suo tempo e riteneva di doverlo fare per compito di occupazione di un luogo sociale, per il posto che occupava in società. Quindi un luogo della formazione ordinaria delle persone più rappresentative della società. Era un luogo costoso, questo mi ha molto colpito. L'abbonamento al gabinetto era un abbonamento costoso e c'erano anche famiglie come i Browning che non entrambi si permettevano l'abbonamento ma solo uno dei due coniugi e la signora si concedeva abbonamenti meno lussuosi e meno costosi. Questo per dire che ci testimonia di un'epoca nella quale la cultura letteraria non era un luogo soltanto aulico e lontano dalla vita quotidiana ma era, e qui spererei di poter recuperare un giorno questa identità e questa funzione, il simbolo della cultura che entra nella vita, che fa parte della vita ordinaria dei componenti, una comunità civica e sociale, una comunità allargata di frequentatori di un luogo come appunto la comunità cosmopolita dei frequentatori di Firenze. Oggi questa funzione è più nascosta in città e il VSE invece ha un ruolo nobile di punto di deposito della memoria letteraria e del sapere letterario del nostro paese, anche contemporaneo, anche quello che si va facendo. E in questo palazzo in particolare in cui noi ci troviamo oggi, devo dire sia allo stesso tempo il contenitore di quella storia ma anche la rappresentazione plastica di quella storia. Per questo mi fa piacere dire che alla fine dopo un lungo percorso di approfondimento anche con gli amici del VSE siamo arrivati alla decisione di non abbandonare questo luogo col VSE e di mantenere qua il gabinetto con la sua attuale funzione. E per il problema degli spazi che il gabinetto avrà troveremo altre soluzioni, alcune sono già allo studio tra l'amministrazione comunale e la Presidente e la Direttrice, per poter risolvere i problemi di spazio senza perdere il filo con quella memoria che qui è così ben rappresentata e ben visibile. Ed è raro poter raccontare una vicenda culturale, una storia culturale potendo disporre dei segni materiali, della storia materiale di quella vicenda, non soltanto appunto dei libri quando si tratta di un bene immateriale come la letteratura o delle carte o delle funzioni di archivio ma anche della rappresentazione di quelle funzioni e questo trovo che sia un segno e un filo che non dobbiamo perdere nella nostra città. Il ruolo e la funzione di custodire l'identità diffusa, la funzione diffusa e il rapporto con la letteratura più feriale è affidato oggi ad altri luoghi e devo dire che insieme al gabinetto VSE sono tanti progetti che in questi anni abbiamo fatto per favorire la crescita, la presenza in città di questi luoghi, la loro disponibilità. Penso per esempio alle tante librerie indipendenti con le quali collaboriamo continuamente perché siano non solo luoghi di commercio, ma ripeto anche il VSE all'inizio era un'attività economica fiorente per il suo promotore, luoghi di commercio ma luoghi nei quali si costruisce una rete di relazioni sociali, non solo commerciali, intorno ai libri e alla letteratura e credo che insieme possiamo fare un grande lavoro perché, come ci insegnano tanti maestri, la continuità col passato non sia mai passatismo ma sia anzi il rinnovarsi di un'identità e di una vocazione che debbono essere contemporanee proprio per onorare nel migliore dei modi una storia come questa di 200 anni. Io non vi rubo altro tempo, sono molto felice di essere qua in rappresentanza del sindaco che oggi all'UNESCO con importanti risultati che poi racconterà nella settimana con l'assessore Sacchi anche lui impegnato nei colloqui parigini all'UNESCO e vi porto anche il loro saluto insieme al mio e vi auguro tutto il meglio. Noi siamo a disposizione per fare di queste celebrazioni davvero il momento nel quale non solo si celebra e si festeggia una storia lunga ma anche si colgono nel presente, si radicano nel presente i motivi per poterla prolungare verso un futuro bello, alto ma anche disponibile ma anche feriale perché questa è la dimensione credo che ci chiama di più, il fatto che la cultura non sia di pochi, non sia riservata agli addetti ai lavori ma che per esempio la grande memoria culturale del nostro paese sia parte della vita quotidiana di tutti, cosa è stata molto difficile, mi rendo conto, ma obiettivo a cui non possiamo rinunciare. Grazie, buona giornata e buona festa. Grazie Cristina Giacchi, siamo molto contenti delle parole che hai speso anche sulla questione luogo del VSE, soprattutto sulla volontà anche di risolvere alcuni problemi che ci sono, che rimanendo qui non scompaiono diciamo e dobbiamo lavorare, sì. La volontà di lavorare non ci manca a nessuno, una cosa che mi sembra che devo dire accomuna tutte le persone che lavorano per il VSE, da quelle istituzionali come Gloria Manghetti, come Laura Desideri, eccetera, agli uffici stampa che sono venuti da Milano e che hanno lavorato, c'è una passione, ecco, tutti lavoriamo con una certa passione diciamo nel confezionare questo futuro, questo presente, questo futuro che mette il VSE. Ringrazio tutti quelli che costantemente ci danno una mano, ringrazio anche perché li vedo qua in prima fila, gli altri membri del CDA, il professor Valdo Spini, il professor Sandro Rogari, il professor Gino Tellini che non vedo ma c'è da qualche parte, Francesco Neri non so se c'è, non c'è, comunque lo ringrazio davvero molto. Io avrei anche da leggere un breve scritto, sì, non ce l'ho nel computer, allora, Tommaso Sacchi, benché diciamo istituzionalmente non si fa mai di fare due autorità, però ci teneva moltissimo a mandare due righe e mi ha chiesto di leggerle, quindi se avete pazienza velocemente. Il gabinetto scientifico letterario VSE ha scritto e continua a scrivere la storia culturale della nostra città, oggi più che mai si dimostra un centro di ricerca e di studio di fondamentale importanza per la promozione della letteratura italiana in tutto il mondo e svolge un ruolo di assoluto rilievo per incentivare la lettura tra le giovani generazioni, ruolo non facile perché il libro di carta è diventato un oggetto un po' misterioso, legato allo studio e non al piacere. Sta alla nostra amministrazione e alle nostre istituzioni culturali cittadine dimostrare che non è così. Negli ultimi anni l'IVSE ha intrapreso la via di una sempre maggiore apertura verso la città e il pubblico, con iniziative come scrittori raccontano scrittori che hanno contribuito a far conoscere a tutta la città il prezioso archivio documentale e hanno coinvolto centinaia di studenti delle scuole. Il Comune di Firenze si è sempre impegnato e si impegnerà a promuovere la lettura, strumento assolutamente indispensabile al nostro progresso civile e culturale e per valorizzare il gabinetto VSE, luogo di eccellenza in cui discutere, confrontarsi e conoscere. E questo lo ringrazio moltissimo e questo speriamo di fare in questo blocchetto di cose che penso abbiate trovato all'ingresso che è tutto il programma di quest'anno, perché poi ci sarà il programma del prossimo anno. Oggi avrebbe dovuto esserci il Ministro Franceschini che invece c'è la dottoressa Muratori in rappresentanza del Ministero, ma Franceschini verrà l'8 di febbraio, che è il giorno in cui inizia la serie dedicata alle parole del nostro tempo, che è una riflessione iniziata da Enzo Siciliano molti anni fa, con la parola Italia all'epoca, mi ricordo, credo fosse il 2001. Invece quest'anno iniziamo con la parola Europa l'8 febbraio con Ferruccio De Bortoli e Franceschini sarà presente in quell'occasione, quindi sarà anche molto importante la sua presenza anche su quella parola, soprattutto perché stiamo parlando di Europa e cultura. Credo di aver detto abbastanza, non so a chi passiamo... A gloria. A gloria. Sì, confesso anch'io una certa emozione essere qui oggi e anche, devo dire, una certa incredulità. In questi giorni con Laura Desideri, mentre eravamo a allestire la mostra, Laura diceva, mi sembra quasi un miracolo essere qui oggi, essere qui oggi a distanza appunto di 200 anni da quando Giovan Pietro Viesi apriva i battenti del suo stabilimento. Era appunto, come ricordava Cristina Giacchi, il 25 gennaio del 1820. Sapevamo che era un compleanno importante, che non potevamo passare sotto silenzio, naturalmente, e in particolare ci fa piacere che, appunto, avendo lavorato, naturalmente queste cose nascono da lontano, negli ultimi anni proprio a questa iniziativa, ci sia stato il modo di elaborare un programma, un progetto, che ha trovato l'approvazione da parte del Ministero dei Beni Culturali, nella persona appunto del Ministro Franceschini e della Dottoressa Paola Passarelli, che appunto è il Direttore Generale, che hanno approvato un programma che aveva avuto da un lato il sostegno del nostro Consiglio di Amministrazione, anch'io li ringrazio, sono qui con noi per l'appoggio che ci hanno dato, ma anche di un numero di prestigiosi intellettuali che su tutto il territorio, una volta che gli abbiamo sottoposto il programma, hanno dato il loro sostegno. Alcuni sono qui, mi fa piacere ricordarli, il nostro Beppe Matulli, gli eredi Bonsanti, il presidente Corvata del Centro Studi Recanati, che insomma i legami sono ovvi, direi, con questo centro, insomma tante personalità della cultura. E questo comitato è presieduto da Cosimo Sceccuti, che ringrazio, che è qui con noi. Cosimo Sceccuti è il presidente di un comitato intitolato appunto al bicentenario della fondazione del Gavinetto Scientifico Letterario Vessi e questo mi sembra evidente nel solco di una tradizione nel nome di Giovanni Spadolini, che è stato tra gli estimatori più convinti della figura e dell'operato del nostro padre fondatore. E di pochi giorni fa, ecco questo, avevamo detto Alba lo dicevi te, ma ora lo dico io. Questo programma è stato insignito anche della medaglia del presidente della Repubblica, che qui abbiamo esposto, e quindi è un riconoscimento importante, che insomma ci rende particolarmente orgogliosi. Come peraltro siamo particolarmente orgogliosi di lavorare al Gabinetto Vessi, che è proprio un simbolo, il nostro istituto di libertà e da sempre, proprio nella tradizione di Giovanni Pietro Vessi, un ponte tra culture diverse. Oggi apriamo, come è stato ricordato anche dalla presidente, e credo che apriamo nel modo migliore, non si poteva auspicare di più, devo dire, visto il risultato dell'esposizione che andrete a vedere, gli essi del catalogo, qui abbiamo anche l'editore Polistampa, Pagliai, che è con noi, che insomma siamo molto felici anche del risultato editoriale. Un calendario, andiamo ad aprire, fitto di incontri, di mostre, pubblicazioni, varie iniziative che sono nei Deppliant che avete trovato, che proseguiranno anche nell'anno a venire. Quindi un impegno estremamente gravoso, ma che sono sicura con il sostegno di tutti voi, dell'amicizia che ci dimostrate anche oggi qui con noi e della stima nei confronti proprio dell'operato di questo Gabinetto Scientifico Letterario, sono sicura che riusciremo a portare a compimento. Le istituzioni sono tante, sono state ricordate, sono contenta che sia con noi Giorgia Muratori del Ministero in rappresentanza appunto del Ministro oggi qui, perché con il Ministero c'è stato un liaison forte in questi anni e in questa circostanza in particolare. Lo scorso 4 dicembre eravamo a Roma a insediare appunto il Comitato e ho visto appunto una partecipazione particolare e mi ha fatto molto piacere. Poi naturalmente ricordava Alba la Fondazione Cassa di Risparmio, la mostra è realizzata per un lato con il sostegno del Comitato Nazionale, per l'altro appunto con la Fondazione Cassa di Risparmio. Non so se ci sono, la dottoressa Carmi, lo scorso dicembre nella prima conferenza stampa che abbiamo fatto ricordava 20 anni di sostegno al nostro istituto, anche parte delle ricerche che poi sono approdate a questo lavoro, perché si diceva ieri queste iniziative non nascono in pochi mesi, nascono negli anni, Laura Desideri lavora su queste fonti preziose del libro dei soci e del libro dei prestiti da 20 anni e quindi appunto oggi si può dire nella rete, quello che è rimasto nella rete Laura ha tirato su e lo ha messo in mostra per tutti e noi. Quindi la Fondazione Cassa di Risparmio. E poi naturalmente grazie alla Regione Toscana, vedo qui Elena Pianea, mi fa piacere perché appunto anche la Regione ci ha sostenuto sempre in questi anni. Un ringraziamento particolare però lo voglio fare al Comune di Firenze. Questa mostra ci parla anche in extremis direi appunto del Comune di Firenze perché finita l'esperienza dell'impresa privata, questo prezioso ingombro come fu detto allora, appunto fu trasferito al Comune di Firenze che ne diviene appunto il proprietario. Da allora appunto la liaison è forte, il Presidente e il Sindaco di Firenze per il tramite di un suo delegato. È una liaison che ha visto alti e bassi nel tempo. Io devo dire che sono molto grata a Cristina perché nei diversi ruoli amministrativi che ha avuto in questi anni c'è sempre stata vicina ma al di là dei ruoli anche proprio per l'attenzione sempre riservata alla cultura e alle istituzioni della nostra città. E mi fa piacere aver sentito dire che appunto in questo luogo così profondamente segnato dalla mano del direttore del Novecento, Alessandro Bonsanti, sia preservato in quella che appunto è una narrazione non solo con i contenuti ma anche in questo contenitore straordinario che quando si fanno le visite guidate diciamo sempre non abbiamo un patrimonio straordinario ma ci manca il mattone e quindi non siamo proprietari di un palazzo e quindi grazie al Comune che appunto siamo una costola del Comune di Firenze diceva un nostro presidente appunto e questo legame è molto forte. E naturalmente grazie a tutto il personale del gabinetto Viesè a partire da Laura ma insomma questo è scontato e come ha detto Alba siamo tutti molto appassionati e devo dire che l'elenco dei nomi non lo voglio fare perché tanto appaiono nel colofone e poi all'interno del catalogo. Mi fa piacere però ricordare tre persone che sono le persone quelle più giovani e anche quelle contrattualmente più fragili diciamo così che sono Fulvio Vennati, Francesco Conti, Ambra Spaccasassi che hanno lavorato con noi con la stessa partecipazione. A questo punto direi che possiamo passare la parola ai nostri due relatori Lina Bolzoni e Cosimo Sceccuti che ci introdurranno alla mostra e si pensava di dare la parola prima a Cosimo perché poi Lina ci introdurrà più da vicino prima di dare poi la parola naturalmente alla curatrice. A te Cosimo. Grazie. Vediamo se vi sentite sì. Bene nella divisione dei compiti il mio è quello non tanto di introdurvi alla mostra ma di rendere omaggio e ricordare brevemente questo straordinario personaggio che non viene abbastanza mai valorizzato che è appunto Giovan Pietro Viese. Quindi è con vera davvero gratitudine dottoressa Muratori vice sindaca, personale dei Viese, autorità e amici che vi rivolgo il saluto più sentito degli amici del Comitato Nazionale per il bicentenario del gabinetto scientifico e letterario e mio personale. La vostra presenza oggi fra noi all'inaugurazione della mostra documentaria sui libri e lettori del gabinetto fra 800 e 900 che rappresenta l'apertura delle iniziative volte a ripercorrere il bisecolare contributo di questa istituzione alla cultura nazionale e non solo, costituisce il più alto riconoscimento alla memoria del suo fondatore Giovan Pietro Viese e di quanti negli anni hanno portato avanti talvolta in condizioni davvero difficili la sua opera dal nipote Eugenio e dal figlio di questi Carlo da Eugenio Montale ad Alessandro Bonsanti che sappiamo fu un attentico rifondatore del gabinetto. Viese, un rivoluzionario la cui modernità appare ancora oggi sorprendente. Il commerciante di Panni, giunto a Firenze in pianta stabile nel 1819, in un ambiente assopito, caratterizzato da modeste forme di mecenatismo, ha un'intuizione vincente, formidabile. In una città di intellettuali, frequentata da stranieri, si può investire in cultura. Il capitale investito nella cultura può essere remunerativo, svolgendo nel contempo una profonda operazione di rinnovamento sociale, di apertura al progresso scientifico e letterario. L'avvio del gabinetto nel 1820 è per l'imprenditore svizzero di origine e ligure di nascita, un investimento definito di tutto riposo, senza molti rischi, senza molti profitti. Tale, tuttavia, da innestare un circolo virtuoso. Gli iscritti pagano per la frequenza, associandosi per una settimana, un mese, un anno o per periodi intermedi. Coi preventi si acquistano libri e giornali e si arricchisce l'offerta. All'inizio, in Palazzo Bondelmonti, tre stanze per la lettura e una per la conversazione. Questo era il gabinetto. Per consultare, dopo qualche tempo, 44 giornali, prevalentemente tedeschi, svizzeri e francesi, che vi e sé faceva fluire settimanali o mensili, e a disposizione dei lettori, in un ideale appuntamento con l'Europa colta e civile, e molti libri, dizionari e enciclopedie. È la fase della lettura, diciamo, in loco. Nel 1822 entra in funzione la biblioteca circolante. Si paga la tessera per avere libri in prestito. I proventi di questa operazione contribuiscono anche ad alimentare l'attività di editore, intrapresa da vie sé con una visione fortemente innovativa. Non più edizioni ricercate, commissionate, destinate a pochi, ma libri ben curati, senza fregi economici di ampia diffusione. Quanto al contenuto, non la sola ricerca del bello scrivere, ma mano a mano un'apertura a quella che Giosuè Carducci avrebbe poi definito la letteratura civile. C'era da formare la coscienza nazionale. Si riconosce il diritto di autore, non compensi ad arbitrio, a proprio piacimento, ma rispetto di regole fisse, un tanto a pagina a seconda del prestigio dell'autore. Si deve pagare per leggere, ma si deve pagare chi scrive. È il suo principio inderogabile. Un principio puntualmente rispettato, anche nella realizzazione della sua principale creatura, la rivista di lettere scienze d'arti Antologia, pubblicata fra 1821 e 1832, fino alla violenta e drammatica soppressione da parte delle autorità granducali, pressate da quelle austriache. Se mi volessero condannare a fare un giornale del tutto insipido e scolorito, confidava di essi all'opoldo Cicognara nel febbraio del 1933, alla vigilia della soppressione, bisognerebbe bene smettere e la vergogna non sarà mia. All'esperienza dell'antologia seguivano quella del giornale agrario toscano, nel 1827, della guida dell'educatore dal 1836, dell'archivo storico italiano dal 1842, che esce tutt'oggi, testate di contenuti elevati ma meno pericolosi agli occhi della censura. Aperta al progresso, all'emancipazione, all'istruzione per tutti e alla tutela del patrimonio artistico, al recupero delle identità nazionali e della storia comune a diversi stati della penisola, l'antologia rappresentava davvero una minaccia per il conservatorismo reazionario, ancora più grave degli occasionali tentativi rivoluzionari degli adetti delle società segrete, perché rovesciava l'assetto sociale, educare il contadino e istruire la donna, è una rivoluzione maggiore delle cospirazioni. Si respirava in quelle pagine un'atmosfera di liberalismo moderno, che Viesse aveva apertamente espresso nel premio a lettori del 1830, indicando gli obiettivi etici, non solo economici, del proprio impegno. Far conoscere all'Italia progressi più o meno lenti, più o meno generali dell'europea civiltà. Far conoscere agli stranieri l'Italia e l'Italia a lei stessa. Difendere le sue glorie, incoraggiare i suoi sforzi, senza ricorrere a vieti e declamazioni, ad adulazioni funeste. Additare ai pensieri degli italiani uno scopo non mai municipale, ma nazionale. Ecco l'imprenditore, il sagace amministratore di conti, farsi promotore di un progetto non più municipale, né tantomeno vernacolare ma nazionale, si può dire europeo. Nelle stanze del suo gabinetto a Palazzo Bondermonti, come è noto, si sarebbe recato fra gli altri nel 1827 Alessandro Manzoni, per riscrivere in lingua italiana il suo romanzo. Come lui, lo testimoniano i registri dei frequentatori, che sono un'attentica perla messa fuori dalle nostre amiche, tanti scrittori italiani e stranieri, illustri o sconosciuti, quali Stendhal o Andersen, o nei decenni avvenire Dostoevsky, afflitto da debiti e minato nella salute, ignorato da tutti, l'esule russo concluderà in Firenze capitale, nel 1860, il suo capolavoro, l'idiota. Un cenacolo, quell'animato da Riesse, che dagli incontri del gabinetto si trasferisce nei fascicoli dell'antologia. La rivista si impone alla generale attenzione per la sua apertura al dibattito, sui grandi temi e problemi del momento, per l'altezza del libero confronto delle idee. In quelle pagine inizio a scrivere un giovane avvocato ligure, appena ventenne, Giuseppe Mazzini, coperto dalla firma Unitaliano. Il suo primo scritto lo inviò proprio all'antologia, nel 1826, l'amor patrio di Dante, Dante, padre della nazione, un appassionato alto di fede, politico più che letterario, nel poeta padre della nazione, che non poteva vedere al momento la luce per il rigore della censura. Consigliere attento ed equilibrato, di esser fu uno scopritore di talenti e un punto di riferimento impareggiabile per tante personalità del risorgimento. Il fondatore del gabinetto, di cui si ricordano oggi due centri anni di attività, ha segnato davvero un'epoca nella storia italiana. Grazie. Molte grazie di avermi invitato oggi, un invito che ho accettato subito con grande piacere, grande senso di solidarietà per quanto il VSE sta cercando di fare adesso, non solo per la sua storia bellissima che abbiamo sentito raccontare in modo così efficace. Ecco, in teoria non ci sarebbe bisogno, diciamo, di anniversari per ricordare le cose davvero importanti, ma si sa che specie di questi tempi la nostra memoria può essere pigra e distratta, per cui è bene che venga sollecitata. E questo credo che sia proprio il caso della mostra che viene inaugurata oggi, il VSE dei VSE, Lib dei lettori, fra 8 e 900, 1820-1923. E poi, appunto, tutte le iniziative molto belle, molto ricche, diciamo, che a questa mostra seguiranno e che sono, fra l'altro, previste, appunto, come abbiamo sentito, all'istituzione di un comitato nazionale, segno dell'attenzione, diciamo, perché viene giustamente rivolta a questa istituzione. Come abbiamo sentito, esattamente 200 anni fa, Jean-Pietro VSE apre il suo gabinetto di lettura, un'istituzione prestigiosa e antica che è riuscita a passare, se non indenne, diciamo, però è riuscita a sopravvivere attraverso censure, guerre, alluvioni, cambi di proprietà, e appunto vive anche oggi e ci ripropone insieme, l'abbiamo sentito, il fascino del suo passato, ma anche delle domande essenziali, credo, per il nostro presente e per il nostro futuro. La mostra che vedremo, il catalogo che la accompagna, che possiamo vedere qui, ci fanno ripercorrere, come dicevo, appunto il primo secolo della sua storia. Quindi ci mettono di fronte, con una documentazione molto bella e molto ricca, a questioni che, dicevo, ci riguardano tuttora. Intanto il valore sociale della lettura, della conversazione, del dialogo, del confronto delle idee. A tutto questo, l'abbiamo sentito molto bene, crede con grande coraggio e determinazione, appunto, il suo fondatore. Lui è ben consapevole, come scrive all'amico Sismondi, che non siamo in un paese in cui si legge poco, anzi lui dice proprio in cui non si legge. E sa bene, appunto, che l'offerta di pubblica lettura a Firenze era deprimente. Ma proprio per questo si impegna, appunto, in un'impresa, che, e questo per me è molto importante, in un'impresa radicata a Firenze, ma che vuole aprire Firenze al mondo. Certamente la bellezza, l'unicità di Firenze, il fascino che la città esercita su una comunità cosmopolita di visitatori, tutto questo sono al centro della sua idea. E con essa, l'abbiamo già sentito, le novità politiche, le speranze di libertà, le speranze risorgimentali, diciamo. Ma insieme a questo, strettamente legato a questo, e questo è veramente molto bello, molto innovativo, sta l'esigenza di garantire a Firenze, e alla comunità che la frequentava, la conoscenza dell'Europa e di quello che stava cambiando, di quello che stava maturando in Europa e nel mondo. D'altra parte, questa tensione, diciamo, tra Firenze e l'Europa è già presente nella personalità stessa di Vioceux, come abbiamo sentito, commerciante, uomo d'affare di origine ginevrina, ma è nata in Italia, come tiene a ricordare. Sebbene io porti un cognome forestiero, sappiate che l'avere io avuto i Natali in Oneglia, città della riviera di Genova, dove mio nonno da lungo tempo, io vi spinto dall'esilio per essere stato a Ginevra, uno dei capi del Partito Popolare, aveva aperto una banca commerciale, mi dà diritto di dirmi di italiano e me ne glorio. Questo ho visto, fra l'altro, è una... sì, è stato giustamente scelto. Il nonno, in effetti, era un grande personaggio, in contatto con Jean-Jacques Rousseau, che aveva avuto cariche politiche a Ginevra. E questo quindi già ci dà un'idea, diciamo, dell'apertura anche intellettuale, culturale, di questa famiglia, di questo personaggio. Jean-Pietro Vioceux aveva viaggiato a sua volta per commercio, in lungo e in largo, per l'Europa. E sceglie appunto Firenze, dicevo, per il suo passato, ma anche proprio per far leva sulla possibilità di mettere la città al centro di una rete internazionale. Quindi, per trasformare la sua capacità di attirare persone da tutto il mondo in una grande occasione di crescita culturale e civile. Questo credo che oggi per noi anche non sia importante, sia pure naturalmente una situazione diversa. Proprio per questo fonda un, cito, gabinetto scientifico e letterario. Cioè, fin da subito, la sua ottica in qualche modo enciclopedica, in qualche modo, diciamo, illuminista. Appunto, fonda un pubblico stabilimento per cui, come spiega nel manifesto del 9 dicembre 1819, cito, in cui i viaggiatori stranieri possano trovare le notizie sulla loro patria, non meno che dai progressi delle scienze e delle arti, il perfezionamento delle quali è lo scopo dei loro lunghi e dispendiosi viaggi. Trago tutte queste citazioni, appunto, dal catalogo, e dalla mostra che poi potrete vedere. Chi si associa troverà appunto sale di lettura, di scrittura, aperte a lungo. Quando ho visto gli orari di apertura ho pensato a quelle delle nostre biblioteche, a volte tragicamente chiuse, penso alla biblioteca universitaria di Pisa, ad esempio. Quindi, invece, in questo gabinetto, diciamo, si poteva andare dalle 8 di mattina fino alle 11 o alle 10 di sera. Poi, appunto, come abbiamo sentito, chi si associa avrà a disposizione tutti i giornali italiani, i principali giornali inglesi, tedeschi, francesi, opere di consultazione, sale per la conversazione, dove si possono praticare anche dei giochi silenziosi, perché sennò si dava noia, naturalmente. Anche questo sarebbe bene se ne lo presenta. Quindi, giochi di scacchi, la dama, e poi, nelle vicinanze, c'erano degli ottimi caffè. E tutto questo, anche questa dimensione di agio, diciamo, è molto importante. E qui vorrei ricordare un commento sempre di Sismondi, che è continuamente in contatto con Viesseux, in quale commento un po' ironicamente, i fiorentini, ce peuple d'Uasif, qui n'apprezzo jamais chez lui, ni feu, ni lumière, apprezzeranno tutte queste comodità. Quindi questa popolazione, che in genere è a casa sua, dice lui, si tratta un po' male, apprezzerà invece anche questa dimensione, appunto, di agio, di comunità. Ora, l'impresa di Viesseux, qui ripeto quello che è già stato detto, affianca ben presto all'attività culturale anche delle importanti iniziative editoriali. E le riviste pubblicate, appunto, l'Antologia, il Giornale Agrario, poi la Guida degli Educatori, l'Archivio Storico Italiano, danno un'idea di cosa si prefiggeva, naturalmente sempre in contatto anche con i problemi posti dalla censura a Gran Ducale. Cosa voleva creare? Cosa voleva, diciamo, aiutare? Voleva aiutare un progresso che coinvolgesse, appunto, ceti nuovi, di cui anche l'attenzione all'educazione. Un progresso che passasse attraverso lo sviluppo delle scienze, del commercio, dell'agricoltura, e poi, cosa bellissima, secondo me, l'amore per i viaggi, perché, diciamo, dietro c'è proprio questa sua passione per i viaggi, il gusto per le carte geografiche, la sua capacità di interagire con paesi e con lingue diverse. Quindi direi che, appunto, i vecchi ideali illuministici, così lo sviluppo delle scienze, la ricaduta sociale dello sviluppo, appunto, delle scienze, si nutrivano, l'abbiamo sentito detto molto bene, del nuovo clima romantico, delle idee liberali e risorgimentali. E tutto questo entra in collisione, naturalmente, con la censura granducale, con la situazione politica, ma anche in maniera più sofferta, con una visione pessimistica di Leopardi, appunto, che pure ebbe col Viesseux dei rapporti di vitale importanza. Il giovane Leopardi viene ben accolto al Viesseux il 25 giugno 1827 e poi è presente a uno di quei momenti magici, per cui, diciamo, basterebbe questo a ricordare, che è, appunto, la famosa serata del 3 settembre 1827 in cui Leopardi, insieme con l'amico Giordani, è presente alla serata in onore di Alessandro Manzoni e a lui non piaceva molto il fermo e Lucia, però è conquistato da quello che lui chiama, appunto, l'amabilità di Manzoni. Nello stesso tempo, e questo è molto interessante, e su questo poi c'è stato, soprattutto nei decenni passati, molta attenzione critica, un grande dibattito, nello stesso tempo Leopardi non riesce a condividere, appunto, la fiducia nel progresso, questa dimensione, appunto, che ricordavo, che caratterizza il gruppo del Viesseu e, come si ricorda giustamente nel catalogo, ad esempio, nella Batracomio Machia, non risparmia una satira feroce, a un certo gabinetto di lettura che, secondo lui, darebbe spazio solo ai giornali, alle gazzette, invece che ai libri, oppure, ricordiamo, la parodia ironica a Gino Caponi, oppure alla contemplazione della Ginestra, delle magnifiche sorti e progressive. Quindi è molto interessante anche questo, c'è questa compresenza veramente di visioni diverse, diciamo. Quindi abbiamo ricordato Manzoni, Leopardi, ma tantissimi altri personaggi italiani e stranieri che compaiono nella storia del Viesseu, il quale, appunto, anche questo è già stato ricordato, e la mostra ce lo fa vedere molto bene, conserva una documentazione di straordinario valore e ricchezza, documentazione che è stata studiata, ma che si potrà anche studiare in futuro, perché veramente è uno squarcio, una prospettiva, diciamo, sulla cultura europea e non solo europea. Appunto, il libro dei soci registra fedelmente quando e chi ha pagato la quota, appunto, per usare i servizi. Volevo ricordare una citazione del Tommaseo, il quale, appunto, a proposito del libro dei soci, dice, è documento di storia e curiosità preziosa ai cercatori d'autografi, anche questo è singolare, e a chi, dalla mano di scritto, arguisce l'indole dello scrivente. C'è una specie di grafologia, è un'ottica critica veramente singolare questa. Sono i registri dove i forestieri segnano di proprio pugno il nome loro e il libro che chiedono. E questo, naturalmente, è bellissimo. Del passare che fecero da Firenze tanti uomini notabili nello spazio di tanti anni non rimarrà forse traccia che in quei registri. Tommaseo sia pure in un'ottica molto particolare, però dice una cosa sacrosanta, cioè la ricchezza unica di documentazione che il libro dei soci ci dà. E, naturalmente, il libro dei prestiti, il libro dei prestiti in cui possiamo proprio spiare dal vivo cosa leggevano questi che erano spesso personaggi grandissimi. Magari, appunto, c'è stato ricordato Dostoyevsky non ancora riconosciuti. Per chi, come me, ha passato parte della sua vita in biblioteca a studiare testi antichi a guardare con curiosità le note che si trovano a volte nei libri e che danno l'idea di come uno leggeva questi libri, l'idea che esiste il libro dei prestiti è bellissima. Altro che marginale, altro che note, cioè lì puoi vedere chi leggeva che cosa in quale momento. Poi, al solito, quando noi ci interroghiamo su qual è la memoria letteraria, la memoria culturale di un grande autore, giustamente si dice magari conosciamo se siamo fortunati la sua biblioteca, ma non sappiamo che cosa ha letto. Beh, qui è difficile pensare che uno che pagava la quota per avere in prestito proprio un libro non leggesse. E quindi anche proprio dal punto di vista di ricostruzione della memoria culturale, di come la memoria, diciamo, poi interagisce anche nella scrittura di nuove opere, è veramente una fonte bellissima e che quindi mi auguro, diciamo, che sempre più venga usata e venga messa a disposizione in futuro. E qui, insomma, è stato ricordato Dostoievski, ma è particolarmente emozionante pensare, ad esempio, che da questo libro dei prestiti risulta che nel 62 lui prende in prestito due annate di una rivista che esprime le idee del libero pensiero russo e che poteva leggere qui perché lo zar l'aveva proibito. Oppure, appunto, mentre scrive L'Idiota legge Madame Bovary. Anche questo, diciamo, veramente emozionante pensare a questo. Ma poi ci sono altri grandissimi personaggi come Nietzsche, Ibsen, Kipling, Schopenhauer, Stendhal, i quali fra l'altro mandano i suoi libri all'antologia, sperando che vengano recensiti. Anche questo dà un'idea di cosa significava l'antologia, diciamo, in quel momento. E tantissimi altri. Veramente abbiamo una galleria impressionante di quelli che sono i protagonisti della cultura europea che passano di qui. Che, diciamo, entrano in relazione con queste istituzioni e lasciano una traccia importante. E poi mi fa piacere che il catalogo e la mostra abbia dedicato spazio e attenzione a questo. Ci sono le lettrici. Ci sono le lettrici che via via acquistano un ruolo e anche numericamente un peso sempre più importante. Ho visto che dai dati risulta che nel Novecento sono in maggioranza. E anche questo è interessante perché tuttora non solo dai gruppi di lettura femminili ma dalle varie iniziative per la lettura in giro per il mondo una grande maggioranza è proprio costituita dalle donne. Però sempre con qualche difficoltà naturalmente, no? Perché, ad esempio, mi ha colpito ricavo sempre questo dal catalogo il racconto di Pietro Brighenti che era confidente dell'alta polizia di Milano sotto il falso nome di Luigi Morandini che manda la sua brava noticina sul Viesseu e dice il gabinetto Viesseu è centro del liberalismo di tutta Firenze. È una delle cose più importanti che possa offrirsi in giornata nella città di Firenze. Il signor Viesseu tiene una conversazione il lunedì sera ogni settimana ed era appunto il famoso lunedì che abbiamo già ricordato alla quale non sono ammesse le donne ancorché fossero letterate. Quindi diciamo però come risulta appunto dalla documentazione abbiamo una serie di donne anche che appunto si abbonano che frequentano fra cui l'autrice di piccole donne Luisa Alcott la quale dice un po' male di Firenze però si compra delle pellicce e dice appunto che e appunto frequenta il e poi vorrevo ricordare sempre a proposito delle testimonianze diciamo del rapporto fra le donne e il Viesseu anche qui una cosa molto carina di una scrittrice per ragazzi Ida Baccini che ricorda la prima volta appunto che viene al Viesseu il 21 luglio 1870 e dove e allora diciamo si fa incontro Eugenio Viesseu che lei dice uno degli uomini più belli e cortesi che io abbia mai veduto il quale però si preoccupa che questa giovane voglia leggere dei romanzi francesi e vorrebbe diciamo invece indirizzarli in un altro modo ma lei dice ma io sono abituata a leggere di tutto e appunto poi via via anche guidata appunto da Eugenio legge un sacco di autori francesi fino dice lei al divino insuperabile Balzac quindi veramente era appunto una possibilità di crescita di crescita personale sapete molto meglio di me diciamo cosa succede dopo tutte le vicende che arrivano fino ai nostri giorni ma io mi voglio fermare qui anche perché appunto volevo ribadire questo che la mostra si ferma al Viesseu ma è fondamentale e anche l'incontro di oggi lo dimostra il Viesseu è tuttora vivo è diventato appunto un'istituzione del comune di Firenze che oggi per la prima volta è eretto da due donne appunto direttore Gloria Manghetti presidente Alba Donati e siamo anche ben rappresentate nella comunicazione di oggi ecco e direi proprio che la spinta che Alba ha dato a rinnovare anche l'immagine del Viesseu ad aprire la città ad aprire le prospettive nuove è veramente essenziale perché questa è come dire la scommessa che oggi abbiamo davanti cioè la possibilità di fare della lettura e del dialogo una grande forza di civiltà di resistenza alla barbarie lasciatemelo dire proprio anche per aprire nuove prospettive sul presente e sul futuro grazie grazie vi richiediamo ora un momento di pazienza perché non possiamo non chiedere a Laura desideri di raccontarci un attimo come nasce e come i contenuti di questa mostra grazie grazie a tutti siete tantissimi siamo tantissimi e siamo molto felici come nasce questa mostra è una storia lunga perché come ha già detto Gloria queste cose non si fanno in pochi mesi ma all'origine ci fu una cronologia commissionata da Enzo Siciliano quando era direttore del VSE dal 95 al 2000 che arrivò qui paracadutato lui diceva da Roma e dice ma tutti mi chiedono ma c'è una storia del VSE no non c'è e allora facciamola e quindi io ebbi questo incarico insomma devo dire oggi rivisto col senno di poi cioè proprio una pazza cioè nel senso come in poco tempo pochissimo fu imbastita questa cronologia che comunque poi ha costituito una base di lavoro un canovaccio da approfondire segnando tutti i tassellini in ordine cronologico che il professor Tellini mi conferma è la base senza le cronologie non si fa nulla allora messi in ordine e dopodiché arricchita di particolari di cose eccetera però poi dopo insomma appunto tutto poi da lì si è mosso insomma è stato un motore no che non si è più spento affrontando appunto trascrizione delle fonti esplorazioni del libro dei soci del libro dei prestiti del libro dei soci letture nei carteggi nei giornali nelle riviste trovare tracce tracce di di questo mitico gabinetto di lettura specialmente negli anni dei viessè cioè finché è stato di proprietà dei viessè e appunto il titolo il viessè dei viessè che non è un gioco di parole ma è segna scandisce la il secolo di proprietà privata prima che approdi al comune di Firenze che insomma gli è toccato questo prezioso ingombro appunto è l'unico gabinetto di lettura sopravvissuto in Europa almeno con queste dimensioni poi insomma non si sa a noi ci piace pensare sia così sicuramente pochissimi ne sono sopravvissuti cioè sicuramente non con questa ampiezza di documentazione arrivata fino a noi perché avere i registri dei lettori e dei prestiti io sono pronta a sfidare qualsiasi biblioteca ma perché questo perché era un'azienda commerciale non c'era nessun principio burocratico che la governasse non c'era nessuna normativa non c'era c'era semplicemente da amministrare gestire questo flusso di lettori e segnare che il libro pigliavano in prestito se poi i fogli crescevano troppo pazienza si strappavano e si ricominciava da capo per cui fra l'altro questo registro meraviglioso dei prestiti è pieno di lacune perché il VSE non se lo ponevano il problema che poi sarebbe diventato un documento storico era una forma di gestione artigianale semplicissima semplicissima non c'è biblioteconomia con tutto rispetto per la biblioteconomia ovviamente ma che oggi ci consente ci dà gli strumenti per interpretare ma non è che allora fossero consapevoli di questo quindi quindi c'era un principio semplicità rapidità incrementare gli abbonamenti prendere più soldi comprare libri farli arrivare a tempo record cioè qui c'è un caso che io che troverete esposto nell'ultima l'ultima sono tre stanze perché sono tre palazzi insomma vabbè poi la mostra la vediamo insieme cioè questa è una cosa che mi ha sempre colpito tantissimo il primo volume della Recherche di Proust A Coté de Cesuane esce finito di stampare a novembre del 1913 la data di edizione è 1914 quella che compare sul libro perché è la data di edizione che ovviamente viene posticipata di un mese per non farlo perché non fosse già un libro vecchio allora questo libro finito di stampare nel novembre 1913 il 20 dicembre del 1913 è già in prestito al gabinetto VSE cioè questo significa che arrivato da Parigi non so dove stava lo stampatore poi registrato messo in prestito e lì tutta la schiera i lettori e c'è Prezzolini che è uno dei primi vabbè Prezzolini cioè qui si è fatto non aveva una biblioteca privata evidentemente era un fruitore forse nato insieme a Giurlani Aldo Palazzeschi come il professor Tellini sa bene allora queste sono tracce queste tracce ce le abbiamo solo noi e quindi non solo siamo sopravvissuti la mostra sono tre ambienti che riproducono i tre palazzi che sono state le sedi del VSE dei VSE cioè Palazzo Bondelmonti Eugenio Giovanni Pietro VSE fondatore non di proprietà preso in affitto alla fine del XIX poi Eugenio VSE che nel 73 dopo la capitale si sposta ottiene do Baldino Peruzzi dal sindaco perché nel frattempo era mutato il mondo perché ovviamente la città era completamente mutata quindi polemiche col padrone di casa di Palazzo Bondelmonti eccetera e allora prezzi alle stelle lui ottiene dal comune sempre questo ente in qualche modo protettore nei momenti estremi di occupare il piano terreno di Palazzo Feroni dove c'erano anche altre cose a Palazzo Feroni c'era un albergo c'era il circolo filologico cioè voglio dire c'erano tante cose però a pian terreno c'era il gabinetto VSE che faceva angolo con l'ungarnacciaioli e da quelle finestre dalle sale di lettura dei giornali Gide era molto felice di vedere il ponte Santa Trinita bello come sono belli i capolavori scrive alla madre quando arriva a Firenze e poi dopo nel 98 Carlo VSE cioè il figlio di Eugenio fa un altro passo ancora acquista un edificio cioè c'è stato un momento magico cioè dal 98 al 23 in cui VSE era proprietario di un palazzo Palazzo VSE in Via Vecchietti c'era stata la demolizione della zona lì intorno a Piazza della Repubblica e lui insomma l'ex attuale Piazza della Repubblica a quell'altezza e rifacevano Via Vecchietti la strada e lui compra il palazzo che sarà quindi governa l'edificazione Palazzo VSE e lì continuano tutti vanno vabbè non anticipo nulla il catalogo insomma palazzo la mostra dà qualche piccolo qualche piccola traccia di tutto questo e poi però Carlo cede cede perché i tempi sono cambiati la concorrenza è terribile non ce la fanno eccetera eccetera purtroppo vende questo palazzo al credito italiano che era lì che era nei locali vicini quindi la banca che insomma premeva e quindi il credito italiano compra tutto inutile dire che il palazzo gli interessava molto della biblioteca del gabinetto di lettura molto meno quindi lo rimolla aiuto qui il crollo lo rimolla e quindi a quel punto interviene il comune di Firenze e questa volta appunto dopodiché nuovo cambiamento di sede nel 23 si sposta al palazzo di parte Guelfa dove i direttori letterati approdano cioè Tecchi prima poi Eugenia Montale e poi dopo di nuovo si sposta a palazzo Strozzi con dopo il licenziamento di Montale e dove sott'ora siamo e dove Bonzanti governerà per 40 anni non solo lì creando anche questo luogo meraviglioso e questa è la storia grazie a tutti grazie a Laura allora ora si va a vedere la mostra io volevo ringraziare insieme a Laura anche Francesco Conti che ha collaborato e che infatti appare appunto fra le responsabilità della mostra questo giovane che ha collaborato con noi che ho citato poco fa e volevo ringraziare però anche Monica Pascini che in questi cantieri che abbiamo fatto in questi anni Monica è stata artefice che lavora e insegna qui all'Università di Firenze di trascrizioni di migliaia e migliaia di abbonamenti grazie a tutti grazie a tutti e buona visita mi sembrava Monica mi sembrava Monica